Io sono convinto che il principio che dice che qualcuno è bravo in qualcosa perché gli piace, in realtà vada invertito. Cioè, ti piace qualcosa perché sei bravo, perché sei diventato bravo. Quasi nulla all'inizio è piacevole, tranne le attività intrinsecamente piacevoli e facili. Ma perché? Perché non siamo bravi all'inizio e questo l'ho notato sia su le altre persone, sulle persone molto brave in qualcosa che ho conosciuto, in particolare negli ultimi anni, dove ne ho conosciute tante, viaggiando, facendo esperienze particolari, ma soprattutto su di me. Esempio? Ce l'ho davanti. Fare video. Fare video a me piace tantissimo, piace condividere quello che imparo, gli spunti, aiutare le persone tramite le tecniche che ho imparato, a partire da quelle di memoria, metodo di studio, fino ad arrivare a elementi più generici. Ma all'inizio fare video non mi piaceva per niente. Ricordo benissimo che i miei primi video, e parliamo di pochi anni fa, i primi video su YouTube 2021, primi video verticali, brevi, su TikTok, su Instagram 2020, non mi piacevano per niente. Non è che non mi piacevano i video, perché poi alla fine mi impegnavo e riuscivano. Non mi piaceva girare i video, stare davanti alla telecamera mi metteva a disagio, mi piaceva scriverli e tutto il resto. Ma l'atto in sé di fare video non mi piaceva per niente, questa è una cosa che non ho mai detto. Però ho resistito, ho resistito, ho resistito, e adesso non so se sono diventato e quanto sono diventato bravo, ma sicuramente sono migliorato molto, e mi piace, non mi sento più a disagio davanti alla videocamera. Adesso sto facendo questo video totalmente fuori programma, ho acceso la videocamera con uno spunto che mi è venuto, video non scritto, e mi sono messo a farlo. E sono tanti altri casi, ecco in palestra. Lo squat adesso è uno dei miei esercizi preferiti, mi piace proprio la fatica del fare lo squat, fatto bene, bello profondo. Non mi piaceva per niente prima, ma perché? Perché durante il periodo del covid non ho allenato le gambe tranne con dei pistol squat, perché ovviamente insomma esercizi a corpo libero è più facile fare la parte superiore, quindi ero più debole di gambe e non mi piaceva. Per cui non è che non facevo lo squat perché non mi piaceva, cioè non ero bravo nello squat perché non mi piaceva. Non mi piaceva perché non ero bravo e questo, ripeto, si può verificare in un sacco di casi, per cui il motivo principale per cui ho fatto questo breve video è di cercare di dare il seguente spunto, ovvero se stai facendo qualcosa e quel qualcosa non ti piace, fai fatica, soffri addirittura mentre lo fai, come me quando facevo i video, non mollare, aspetta, non dico di essere bravo, ma se non altro di essere migliorato un po' e cerca di notare una cosa, rispetto a quando avevi iniziato, no? In questo periodo di miglioramento. Adesso ti piace un po' meno? O ancora soffri un po' meno? È un po' meno non piacevole? Se la risposta è sì, allora probabilmente quando diventerai bravo in quel qualcosa ti inizierà a piacere perché qualunque cosa nel momento in cui uno diventa, acquisisce quella che in inglese si chiama mastery, diventa piacevole perché è anche più facile entrare nello stato di flusso in cui le attività diventano automatiche, ma anche quando non lo sono, quindi nella cosiddetta deliberate practice, quando uno si impegna davvero nel migliorare ogni singolo aspetto, allora lì le cose diventano davvero piacevoli, anche se all'inizio non lo erano. Quindi sì, seguire la propria passione sicuramente ha i propri benefici, ma ancora di più è diventare bravo in qualcosa affinché quel qualcosa non diventa piacevole e se diventi bravo prima o poi diventa piacevole.